Sono venuto qua perché mio papà ha fatto la richiesta di venire, cioè di farsi venire qua con lui, ma lui era venuto già molto da prima, da 10 anni che era qua prima di noi e lui è venuto qua per anche problemi economici e si è arrivato bene e io sono venuto qua nella mia famiglia, cioè con mio amore e i miei fratelli e penso che anche loro si trovano bene qua e basta. Ti consideri un migrante forzato? No perché non sono stato costretto a venire qua. Ok, ma invece tuo papà è stato costretto in qualche modo per problemi economici? Penso di sì.